Eccoci con Filiberto per questa seconda puntata del call center, così si chiama la nostra missione, noi chiamiamo i tifosi, se il tifoso si identifica dicendo non c'è c'è nessuno Può fare una domanda importante, di me, a Colse, allora aspetta un altro, il tifoso può aspettare Stava leggendo l'articolo del mercato di Antignani, questo è un gialletto con Ancelotti che abbiamo già insultato ampiamente per aver detto a Ronaldo, che cosa ha detto a Ronaldo? Noi chiameremo un numero a caso, se il tifoso che chiamiamo si chiama Lello, si chiama Lello Può fare due domande Vince, vince, un abbonamento completo a Donatash No, non c'è giù a dire Allora, terminiamo, vediamo Faccio un numero a caso, dico solo che è di, no, là, lo vedo dal 520 iniziale 081520, diciamo, dai Oh sicuramente sì, che parla a telefono, scusate Perché? Pronto È col center Oh, salto metallico, pronto La televisione 17 su 24 Valter, Valter, Garghi, Garghi, scusate, sto parlando con mio cognato Garghi Ma, chi parla? 17 su 24, Filippi? Oh, fratello Antignani, ciao fratello, io conosco, voi avete dato anche a me un bel quadro, grazie, grazie Ma, veramente, veramente, veramente ti abbiamo dato anche un libro e tu la maglietta, la cosa la fattai? Eh, ma io sapevo se andavo in scia, dai, fare così, dai, ora faccio un nuovo ruolo, sicuramente faccio il nuovo Pirlo, io sono il nuovo Pirlo, tu sei il nuovo Pirlo Sono troppo pronto, eh, ragazzi, sono troppo pronto Ma questo è quello vero, è quello vero o quello? Fammi l'altro uomo, regia, eh sì, qualcuno che mi sta prendendo per i pandemi che passa come... Faccio la finta di essere il Camilla, ma il fatto del nuovo Pirlo, del nuovo Pirlo era simpatico È simpatico, è simpatico, è simpatico, grazie, ma tu veramente sono ancora in linea Pronto? Pronto? Sì, c'è un'altra telefonata? Sì, allora facciamo... Poi, la lezzavio, la lezzavio, la lezzavio, sono io, sono un barone, come stai a firmare? Ma non avevo fatto il numero, bravo Eh, ma tu te lo vuoi fare direttamente con po' la cantina, che ti devo portare quelle bollicine le poate, è la fine del mondo, però, eh? Non dire, non dire, non dire, non devo posso dire, le portate pure a Carlo, a Carlo Fai una domanda di Ciove, non bene, fai una domanda di Ciove, non dire, ciò che non ho mai fatto, posso fare? Sì, ma capace di Ciove si prende bene a fare la risposta a chi siamo andati, oppure no? Come lo vogliamo fare? Sì, secondo te? Secondo me no, ma bravo, ormai eccoci qua